Prende il via oggi ufficialmente la diciassettesima legislatura. Alle 10.30 di questa mattina si sono aperte le porte di Montecitorio per dare inizio ai lavori della Camera, mentre mezz'ora più tardi, alle 11, è stata la volta di Palazzo Madama, sede del Senato. Il primo punto in agenda è l'elezione dei due presidenti di Camera e Senato. Un punto controverso che difficilmente oggi troverà una soluzione. Partito Democratico e Popolo della Libertà, infatti, hanno deciso di votare scheda bianca, mentre il Movimento 5 Stelle voterà per i propri candidati. I nomi scelti dal Movimento di Grillo sono quelli di Roberto Fico per la Camera e Luis Alberto Orejana per il Senato. Intanto il PD continua a lavorare ad un accordo con i 5 Stelle sui nomi. Potrebbe essere domani la giornata in cui sapremo chi saranno i due nuovi presidenti di Camera e Senato. I grillini questa mattina sono stati i primi ad entrare a Montecitorio prendendo posto nelle ultime file in alto dell'emiciclo. Operazione Fiato sul Collo ha scritto su Facebook la deputata Tiziana Ciprini. In realtà si tratta di una collocazione provvisoria, visto che l'assegnazione dei posti avverrà solamente dopo la costituzione dei gruppi parlamentari. Tale collocazione non può in alcun modo pregiudicare l'assegnazione dei posti, che potrà avvenire solo allorché i gruppi saranno formalmente costituiti.